Il Governo sta dedicando grande attenzione a tutte le periferie e ai problemi delle periferie che richiedono interventi come questo, integrati tra i vari livelli di governo territoriale, interventi non solo di sicurezza, che devono essere fondamentali ma non devono essere gli unici, quindi riqualificazione degli spazi, offerta alla cittadinanza sia di quello che è l'elemento del diritto all'abitazione ma anche del diritto a praticare lo sport. Grazie